Questa è la parte della storia in cui andiamo al supermercato a prendere i panini perché io nella vita ho fame. Ok, dopo aver preso quattro panini per undici euro in quel posto di prima, possiamo dire che sì, non era un posto, come dire, economico. Mannaggia! Abbiamo trovato parcheggio, che bello! Alla prossima 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 Alla prossima